Maria Elena Gorra. Affronto con entusiasmo questo nuovo incarico in Alto Adige perché ho lavorato almeno come strutturata 27 anni nella sanità pubblica. Non ho la pretesa di aver capito tutto, anzi quando si fa questo di solito si incorre in errore, però ho visto tanti punti dove si potrebbe fare la differenza e allora la mia scelta è sempre non fermarsi a brontolare, a lamentarsi, ma essere propositivi e di conseguenza io dico quello che posso fare, le mie competenze le spendo e mi metto in gioco. Le parole di stima non sono parole, è una constatazione. Normalmente si parla di pubbliche amministrazioni come in qualcosa dove chi ci lavora è lì parcheggiato, grigio, fumoso. In realtà io qui sento trappellare uno spirito invece propositivo, dinamico e soprattutto una grande valorizzazione delle risorse umane nelle loro competenze. Quindi uno è orgoglioso di lavorare per una pubblica amministrazione.